benvenuti a una nuova puntata di gs in italia risponde è già quel momento del mese ma come volano i mesi giorgio mi sembra sempre di essere lì a registrare di gs in italia risponde appuntamento fisso ho capito ma passa troppo velocemente vabbè andiamo avanti alessandro iniziamo iniziamo alessandro pisani ciao ragazzi livello prestazionale è meglio una medio di gamma di oggi o una top di gamma di una decina di anni fa una domanda interessante non siamo mai posta se consideriamo il peso sicuramente la top di dieci anni fa è più leggera di una media di adesso perché perché non ha usato i freni a disco quindi sicuramente più leggera se consideriamo la rigidezza molto molto probabilmente poi dipende anche dall'usura se parliamo di una bc usata in carbone fino a un certo punto se in alluminio sicuramente no è devastata dopo dieci anni ma se in carbone dovrebbe tenere ancora bene però la bc media gamma nuova con le tecnologie che sono evoluti rapidamente nel carbone probabilmente molto più rigida quindi più reattiva in un discorso rapportature la media gamma attuale nella portatura più ampia rispetto alla top di gamma dieci anni fa che probabilmente aveva il 53 39 e l'11 25 dietro quindi adesso sia un pochino più aperto il ventaglio con più rapporti perché dieci anni fa c'erano c'era già l'undici c'era già l'undici parlando solo a livello di materiale tolto la parte rapporti è difficile dare una risposta definitiva matematica no matematica non c'è però se dovessimo guardare il peso e fare una crono scalata è meglio la top di dieci anni fa per tutto il resto secondo me è meglio la media attuale per il fatto dei freni freni, rigidezza, rapporti, estetica, aerodinamica anche perché l'aerodinamica delle medie gamme oggi è identica all'aerodinamica delle top che gli stampi sono più o meno sempre quelli comunque effettivamente trovi adesso in giro delle biciclette di dieci dodici anni fa che sono invecchiate bene cioè a livello estetico di design non sembrano bici così vecchie no infatti mi ricordo la madone che usavo nel 2012 del Leopard della Trek è una gran bici due race 11 velocità i fili esterni freni tradizionali però ruote in carbone tubolari anche con una bella differenza non c'erano i tubeless cosa che adesso può migliorare la scorrevolezza rispetto ai tubolari da 23 che usavamo a 23 o 25 quindi comunque io credo che i limiti imposti dall'UCI nella fabbricazione delle bici che devono stare dentro certi range hanno contribuito appunto a non fare invecchiare troppo le bici anche bici di decenni fa perché comunque la bici rimane quella poi cambiano le forme un po le geometrie però il concetto è quello non viene mai stravolto diciamo che se il peso limite anziché 6 8 fosse stato 5 i freni a disco non ci sarebbero mai arrivati perché a 5 con una tradizionale ci può arrivare quei dischi impossibili oppure magari con la tecnologia arrivare i freni a disco oltraleggeri eh ma non puoi perché si spacca le forcelle tu devi comunque rinforzare il problema sono le forcelle il problema è fisica il punto di applicazione della forza frenante su una forcella con freni a disco dove la pinza è nel punto molto lontano dall'inizio della forcella mentre i freni tradizionali è in un punto molto vicino quindi la forcella deve essere molto più resistente con un freno a disco che applica la forza in basso rispetto a un freno tradizionale che l'applicano in alto e quindi dobbiamo provare testiamo un freno super leggero per vedere se tengono le forcelle proviamo un freno a disco che sei anche pesante dovresti provare tu un quintale montato su una forcella per freni tradizionale vediamo come come la si rompe male e anche i denti tu sei 100 kg dovresti provare col tuo peso che non mi viene più un testo veritiero Alberto Arienti si dice sempre che prima di abbassare il peso della bici bisogna abbassare il peso del ciclista vero Giorgione molto più economico e salutare ma quanto incide la perdita di peso in una bici rispetto al peso inferiore di un ciclista lo dico perché per esperienza sulla mia pelle abbassando il peso della bici di circa un chilo ho riscontrato vantaggi in termini di prestazione decisamente maggiori rispetto alla mia perdita di un chilo di peso corporeo allora anche qui è fisica cioè nel senso in salita conta il rapporto peso potenza se il peso diminuito che tu l'abbia tolto dalla bici dal tuo corpo è comunque diminuito la prestazione non dovrebbe cambiare a meno che il chilo che hai perso non sia solo di grasso quindi ma assenzialmente inutile per la prestazione ma anche di muscolo se perdi massa magra o se si è disidratato ovviamente la prestazione ne risente rispetto a togliere un chilo dalla bicicletta che lascia il tuo corpo integro bisogna stare attenti a questa cosa noi abbiamo fatto nel video di due anni fa dove ti sfidavo con 18 kg in più che mettevo sulla schiena alla fine sono riuscito comunque a vincere perché quello che fa la differenza mettere se avessi messo i chili fisicamente giusto cambia completamente e come la questione io che ho 20 kg in più del mio peso forma è come se giro con un capotto invernale allacciato quindi anche il discorso di termoregolazione è peggiora moltissimo un discorso di metodismo basale cambia parecchio ci sono tante cose che peggiorano quando hai chili addosso su di te rispetto che su una bicicletta c'è che se vado a zavorrare vingegaard posso zavorare quanto mi pare ma mi stacca lo stesso il motore che ha vingegaard non è che lo puoi mettergli se fu sulle spalle per uscire a però io volevo provare la sfida con un pro e col peso come ho fatto io con te farla con un pro però lo faremo no vabbè per vedere se lo porti a pari peso ti batte maranghe più allenato no devi portarlo no 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 mettendogli più peso più peso più peso con 10 kg in più ma più della differenza lo faremo sicuro per trovare chi è disposto lo facciamo l'ho già trovato luca bassi ciao alale giorgio vorrei sapere esattamente come funziona un misuratore di potenza e come calcola i dati rispondi tu io guarda ho sempre utilizzato il misuratore di potenza giorgione però non c'è grandi linee mi hanno spiegato però non saprei spiegarlo bene il misuratore di potenza all'interno degli estensimetri che non misurano la potenza ma la forza cioè sono praticamente delle membrane che sottoposte a una certa forza si deformano e questa deformazione viene registrata quindi si può sapere quanta forza cioè quanti newton vengono applicati su questo estensimetro questi newton vengono moltiplicati per lunghezza della pedivella e si ottiene di newton metro quindi la coppia questa coppia viene poi moltiplicata per la velocità di rotazione delle pedivelle quindi le rpm è tutto un calcolo velocissimo perché tutto in tempo reale coppia per rpm ci dà poi la potenza che leggiamo sul ciclo computer quindi mettere alla lunghezza delle pedivelle sbagliate può sballare il calcolo della potenza finale esattamente il motivo per cui i misuratori di potenza hanno sempre bisogno di sapere la cadenza per poter funzionare quelli a pedale la cacca in automatico perché hanno dentro dei accelerometri che misurano essenzialmente la cadenza senza bisogno di mettere altri sensori i misuratori di potenza a guarnitura come quell'esempio di shimano insomma l'srm hanno bisogno di un magnete vicino al sul telaio vicino alla guarnitura stessa per misurare appunto alla cadenza i primi a farlo sono stati srm tedeschi tedeschi i primi anni 90 c'era qualcuno che utilizzava però quello che misurano in realtà se volete fare bella figura al bar non misurano la potenza misurano la forza poi con dei calcoli rischiano ad avere la potenza Claudio Martino ciao Giorgione in più occasioni hai spiegato che la pompa sodio potassio ha bisogno dell'energia adatta da sodio per funzionare che per questo motivo aggiungevi un po' di sale da cucina alle maltodestrine nella borraccia vorrei sapere qual è il quantitativo più indicato ho tenuto conto che le maltodestrine nell'enerbit contengono già 0,04 di sale grammi di sale ogni 100 grammi inoltre vorrei chiederti segnalamenti in cui si suda di più si suda molto è necessario metterne di più allora viene messo già appunto nei vari integratori quando mi preparavo da solo queste borracce non esistevano ancora integratori già miscelati maltodestrine fruttosio e cloro di sodio me le facevo io e tenevo praticamente 75 per cento malto 25 fruttosio e poi aggiungevo un grammo di sale per borraccia quindi molto più di quello che usavo una bilancina quella di precisione mettevo un grammo che praticamente sono ovviamente pochi granelli poca roba però sì molto di più perché perché si sta dalla parte sicura essenzialmente probabilmente l'integratore livello commerciale che ha così tanto sodio dentro può essere visto come non salutare ma in realtà una persona che sta facendo un'attività fisica intensa ha bisogno di quel sodio non stiamo parlando di una persona ipertesa o che ha problemi ha bisogno di sodio molto intenso io stavo sul grammo per borraccia quindi due grammi per per chilo di sostanza e facevi i calcoli giusti cioè alla fine ti trovi bene giacomo cannoletta ciao ragazzi dopo aver visto tutti i video che avete fatto su swift mi è sorto un dubbio volendo usarlo per allenarmi in inverno è meglio usare singoli allenamenti mirati presi dalla loro libreria seguendo un proprio piano di allenamento oppure è meglio seguire direttamente i loro piani pre compilati ho visto che il build me up è abbastanza completo ma costringerebbe a non uscire su strada la domenica per seguirlo alla lettera no non farlo a parte il fatto che quando si chiama un piano di allenamento di più settimane c'è il programma c'è la possibilità di schippare l'allenamento dicendo che l'hai fatto su strada arriva un allenamento oggi avrei dovuto fare due ore di fondo lento esatto non è che ti obbliga a farlo su swift ho fatto su strada e te lo salta e te lo considera fatto quindi anche a livello proprio di precisini come potrei essere io non ti rimane il buco lì puoi anche prendere degli allenamenti mirati presi in base a conoscenze che tu quello che leggi su internet sui libri quello che ti può dare anche un preparatore c'è un sito che si chiama what's on swift cioè cosa c'è su swift dove ci sono dei filtri per ricercare gli allenamenti molto interessanti si può indicare la durata dell'allenamento il tipo di intensità espresso proprio in tss che puoi aver ricercare e così ti vengono fuori delle opzioni che possono essere interessanti per farti una tabella comunque io conosco amatori che hanno seguito il build me up mettendo ovviamente le uscite poi i domenicali e si sono trovati molto bene hanno trovato dei grossi benefici ovvio tutti i programmi preimpostati hanno il limite di non sapere chi siete voi di cosa avete bisogno no però partendo partendo da zero comunque non hai mai seguito un minimo di tabella comunque vedi dei benefici delle risposte Giacomo aspetta Giacomo Cannone è un altro sempre lui sempre lui sempre Giacomo ciao ragazzi ho un problema di alluce valgo infatti a distanza di una settimana e mezzo se ti do domande però seppur non troppo marcato solo con le scarpe da ciclismo mi capita di avere dolore ai piedi in alcune pedalate inoltre sento come se mi mancasse un po' di appoggio nella zona centrale della pianta sotto la curva plantare per intenderci ho cercato informazioni ma non sono riuscito a capire se esistono plantari per chi soffre di aluce valgo in bici cosa mi consigliate? inoltre la suola in carbonio delle scarpe può essere fra le cause il carbonio del piede è molto più rigido si ma è un grosso vantaggio in bici perché distribuisce l'applicazione su tutto il piede l'applicazione della forza altrimenti la sentiresti solo nella zona dove hai la tacchetta che è tipicamente la zona di metatarsi che nel tuo caso sono già abbastanza approvati ottimizza anche la spinta voi si quello provi ovviamente si però non è da pensare ottimizzare la spinta a discapito del comfort in realtà non riesce a migliorare comunque il comfort una sola rigida quello che è importante però è che ci sia il giusto accoppiamento tra il tuo piede e la scarpa cosa che mi sembra da qui non ci sia cioè tu hai praticamente l'arco plantare vuoto sotto ogni volta che spingi praticamente il piede si deforma all'interno della scarpa l'arco plantare va ad appoggiare quando spingi sul sottopiede all'interno della scarpa ma quando si è a riposo non rimane sollevato perché probabilmente aria è un piede un po' cavo vista la situazione il mio consiglio è non prendere plantari standard che trovi anche i plantari standard che spacciano alcuni consulenti biomeccanici ma vai da un tecnico ortopedico spendi 100-150 euro ti puoi fare dei plantari su misura portandogli le scarpe da bici in modo che da un lato abbia la forma del tuo piede dall'altro lato la forma dell'interno della scarpa e vai sicuro riempi bene uno spazio di disposizione scarichi il peso su tutto il piede solitamente quelli che hanno questo tipo di problemi con il plantare fatto su misura non i plantari standard come hai già detto tu hanno risolto il problema meno prova poi se magari vuoi ovvio se è il primo metatarso molto sporgente per via della luce valgola la scarpa ti dà fastidio perché è troppo stretta lì non c'è plantare che tengono però è una scarpa abbastanza larga in modo da farti stare dentro bene considerate che penso il 99,9 per cento dei ciclisti professionisti ha un plantare su misura certo tutti c'erano tutti Mattia 9680 ciao Alana e Giorgio guardando il mondiale a crono femminile di quest'anno ho visto atleti di nazionali minori correre con bici molto datate o addirittura non da crono cioè non è massacro capisco che magari certe nazionali partecipano solo per dare visibilità al proprio movimento però mi è sembrato davvero una brutta immagine come se nel salto con l'asta alcuni avessero l'asta più corta sì il paragone ci sta mi sembra antisportivo peraltro anche tra i prof penso ci siano corridori che hanno modo di allenarsi di più e meglio sulle bici da crono e altri che possono farlo meno correndo anche dei rischi vedi Bernal data la vostra esperienza e conoscenza ritenete che far disputare le crono con bici normali potrebbe aver senso? a tutti quanti con le bici normali? no a proposto magari lasciando la ricerca ingegneristica ad altre prove come il record dell'ora no quello non puoi far correre tutti con la bici normale non mi avviso il mio punto di vista in realtà è molto tu sei un po' estremo no il campionato del mondo deve decretare chi è il più forte al mondo in una certa disciplina secondo me devono partecipare i più forti del mondo cioè se ne devono partire in 40 quei 40 devono essere i primi 40 del ranking secondo me quindi bisogna dare accesso a tutti perché tutte le nazioni devono essere rappresentate quello lo vedo più come un discorso olimpico più politico no in mentalità decubertin cioè che tutti hanno la possibilità di partecipare tutti gli stati partecipano anche se non hanno i mezzi per arrivare a risultati top però a livello di spirito olimpico lo vedo a livello di campionato del mondo secondo me non ha molto senso anche se non è 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 neanche una bella figura lo stesso non è che sia anti sportivo è proprio non ha tanto logica anche perché già anche ha settato con la bici top del top prenderesti i minuti però quello che succede nello sci c'è la coppa del mondo ci partecipano i più forti al mondo alle olimpiadi invece ci partecipano un po' tutti poi vediamo il circolo dell'attelità marocchino che ci ha messo tipo il triplo del tempo a scendere mai di rigoro mi ricordo con gli austriaci che magari potevano partecipare sulle 5 o 6 ma il settimo austriaco probabilmente era tipo il ventesimo al mondo e non poteva partecipare perché capisci quindi a livello olimpico lo posso capire a livello di campionato del mondo secondo me non ha molto senso diciamo che considera che nelle crono porti solo due uomini magari patane e patto per cui li chiamo di cronomen di altissimo livello forse si ci può stare cesarone cesarone ciao al giorgio siete grandissimi mi sono sempre chiesto se i frutti delle partenze da fermo allenassero oltre alla forza massima anche quando non si va a tutta forza aerobica cioè la forza che segna con le partenze da fermo possono aiutare a migliorare anche a livello aerobico sì ci sono tanti studi che dimostrano che la forza fa migliorare parecchie le prestazioni anche su sforzi costanti e prolungati come una cronometro di 40 minuti hanno fatto tanti studi su questa cosa tanto se guardate la pagina non le ci sbatta di Gabriele Gallo ci sono tante ricerche nella partenza da fermo nello specifico io non ricordo però essenzialmente è il lavoro che si può fare in bici che contribuisce di più ad allenare la forza massima quindi quello che si avvicina di più a uno squat o a una leg press quindi sicuramente dà grossi vantaggi non solo poi nella volata ma nel complesso di prestazioni è uno di quei lavori specifici che se lo fai con una certa costanza senti da subito dopo poco senti già i benefici sono noiose sono anche nauseanti se vogliamo perché vanno fatte sempre in modo massimale però danno un grosso vantaggio all'inizio senti un po' di mal di schiena un po' al collo perché non la pepe no a me viene da vomitare cioè quando tanto tempo che non le fai le fai veramente massimali 3-4 in fila ti viene da vomitare però se lo fa qualcuno che non l'ha mai fatta e magari un ciclamatore così senti un po' di mal di schiena all'inizio Alphakiz ciao Lane Giorgio una curiosità il ciclismo per sua natura premia praticamente il più forte non lascia alibi agli sconfitti è individuale ma richiede capacità di collaborazione in pratica obbliga gli atleti a essere sempre molto onesti e corretti nei commenti post gara gli sconfitti fanno sempre i complimenti al vincitore che ne aveva di più e i vincitori ringraziano sempre il compagno che ha fatto un lavoro pazzesco insomma soprattutto in confronto ai colleghi calciatori i corridori sembrano una congregazione di saggi illuminati in pace con l'universo che neanche il Dalai Lama ecco voi che siete stati nel gruppo ditemi è veramente così oppure senza fare novi ovviamente avete conosciuto qualcuno che nonostante questa scuola di umiltà e saggezza era ed è rimasto un vanitoso un invidioso insopportabile prima donna o proprio un'emerita testa di che è io posso rispondere alla prima parte e poi secondo te questa è una risposta per te la prima parte non è vero che il ciclismo prima praticamente è sempre più forte anzi essendo uno sport di situazione tante volte più forte non vince perché ha gli inconvenienti perché gli corrono contro gli altri quindi riesce a morire in un grande giro però vince il più forte in un grande giro beh è appena finita la vuelta io non direi il senso dipende da tante cose non è vero che vince sempre il più forte vai tu pure con la seconda parte conoscenze tue dentro un ambiente intanto partiamo dal fatto che il ciclismo è uno sport talmente duro talmente di fatica che i corridori soprattutto dopo le gare sono talmente anche svuotati così che non hanno quella è impossibile che trovi qualcuno che voglia di fare polemica che abbia dell'astro tra me dopo le cronosquadre corte al buio perché sono corte in quel caso sì ok ogni tanto può capire però c'è una sorta di appagamento e di rispetto soprattutto anche per la fatica degli altri esatto dei compagni il fatto che tante volte cioè quasi praticamente sempre tolto casi sono rarissimi quando uno ti stacca che cos'è da recriminare? se uno ti ha staccato in salita ti scatta in faccia ti lascia là cosa puoi recriminare? quindi si è obbligato poi ovviamente ad essere umili ad accettare la sconfitta questa è una cosa molto bella del ciclismo poi vabbè Renko ho criticato più volte perché c'è un carattere un po' così da calciatore un po' esuberantino però io questa cosa la vedo più nell'ambiente velocisti però perché tante volte il velocista che magari riceve un aiuto non proprio eccezionale ai compagni di squadra però poi è obbligato a dire hanno fatto un gran lavoro anche se magari l'hanno lasciato ai 300 metri o non l'hanno portato avanti no si è obbligato a dire ha fatto un gran lavoro perché la volta successiva se tu ti sei allenato della squadra poi la squadra non dà il massimo per te trova sempre il modo per non aiutarti al cento per cento come lo schiacciatore che ringrazia sempre l'alzatore nella palla a vola di là di quello che gli tira perché poi non gliela alza più no esatto ma perché comunque veramente la puoi anche mascherare bene quando devi tirare l'alzatore uno va è un attimo a dire guarda mi hanno chiuso in quel momento anche se adesso con le delle camere hai poco da recriminare la recriminazione cioè quando ti staccano in salita ok ti hanno staccato in salita è più forte ti ha battuto in volata però sono veramente tante le dinamiche e in volata soprattutto non è che vince sempre il velocista più forte è molto più caotica nelle volate no sono dinamiche che a volte e lì basta veramente un attimo ti chiudono succede qualcosa che non vince il più forte e lì sì che ti rode meglio io ero uno che rodeva parecchio quando non riuscivo a uscire ho problemi ma poi le volte ci sono state anche al tour de France un po' di polemiche no perché Phillips l'ha vinta magari un paio un po' sporchine però tipo Van Aert che è stato penalizzato da Phillips nella prima che ha vinto non ha aperto bocca cioè si è stato l'anno prima con Sagan un po' di battibecco qualcosa però magari sul momento subito dopo la gara con l'adrenalina ancora a mille hanno detto qualche parola di troppo Peter Sagan con Van Aert non si possono vedere perché Van Aert disse a Sagan che era una scimmia handicappata tipo gli dice una cosa bruttissima subito dopo l'arri però dopo dice vabbè lo dici subito dopo e ci può stare però non gli ha mai chiesto scusa e Peter se l'è legata a questa cosa l'ha detto anche in una nostra intervista però tolto questi questi casi l'ambiente velocistico un po' particolare per il resto no però quando ti staccano in salito oppure Van Der Poel ti scatta in faccia ti lascia la cosa gli vuoi dire a Van Der Poel adesso bravo no puoi dire magari se Van Der Poel non ha tirato a volte ci sono quelle situazioni dove uno non tira non collabora e poi ti stacca qualcuno si lamenta se non è che non la mandano a dire poi diciamo che la maggior parte delle volte c'è poca polemica Federico a 61 79 Salone Giorgio nonostante la potenza di picco sia determinata almeno in parte geneticamente trovo strano non riuscire a superare 750 watt meno sui cinque secondi con 67 kg di peso e 4.2 watt per kg FTP che non è male come FTP infatti secondo voi cosa potrei sbagliare grazie mille siete fantastici è esattamente la mia FTP attuale 280 watt solo che ho preso quasi il doppio di te e il punto è proprio questo cioè se sei molto leggero e hai 67 kg un peso dal corridore da corsi a tappe che nel professionismo hanno 6 6.3 watt per kg tu nel 4.2 vuol dire che l'euro di forza non sei paragonabile a quei livelli lì quei motori lì e mancandoti la forza fai anche fatica a esprimere potenze massimali molto alte su tempi bassi in più ci può essere tutta una parte di tecnica cioè adesso non ti conosco non so però ci sono tante persone neofite magari che fanno veramente fatica a mettere la massima forza sui pedali e coordinare bene il movimento delle braccia con le gambe per riuscire a spingere il meglio possibile e quello ti fa perdere tantissimo ci sono persone che fanno i stessi watt da seduta in piedi proprio perché in piedi non riescono a essere efficienti nella spinta si è un fatto strutturale tecnico potremmo fare una puntata su come sprintare ma al suo tempo pedalare sui pedali in un modo una puntata dei principianti però bisogna prendere qualcuno uno che ha dei valori ottimi come come federico e provare a fargli fare 5 secondi la van vleuten presente come pedala in piedi? si alza sui pedali scordinati al contrario cioè spinge dal lato sbagliato si è coordinata e ha vinto tutto quello che ha vinto ma non in volata non in volata no è vero qualche volatina l'ha vinta la due volate a due perché ne aveva talmente di più Simone Prandelli ciao Giorgio Maranga nelle leve dei gruppi strada c'è differenza tra il pompante del freno anteriore o posteriore posteriore ovvero se dovessi invertire la frenata come sulle moto e scooter come sulle moto e scooter ci sarebbero delle differenze in frenata o sarebbe la stessa cosa? no è la stessa cosa semplicemente per dare la possibilità a tutti di poter mettere il posizione del freno dove si vuole i nostri colleghi inglesi in Inghilterra di default le biciclette le vendono con il freno destro anteriore come sulle moto e quindi hanno tranquillamente le leve come le nostre con i tubi freni invertiti i freni a disco si può fare tranquillamente forse magari ha pensato magari si è fatto condizionare il fatto che tante volte i freni il rotore è più grande 160 d'avanti ma a volte anche le pinze ad esempio le pinze sono diverse cioè Campagnolo fa una pinza anteriore più grande della pinza posteriore ma la parte di freno e pompante appunto è uguale indipendentemente da dove puoi collegare il tubo chiudiamo con Lorenzo Calabrese io la butto lì tra il serio e il faceto ma quanto i regolari rapporti sessuali o un'altrettanta regolare autosoddisfazione può influire sulle prestazioni ciclistiche? risponda lei Maranga Lorenzo, bisognerebbe provare fare dei test fare una settimana che risposta è? allora per quello che riguarda me secondo me no poi dipende sempre la quantità Giorgione è logico che se uno fa dell'autosoddisfazione o comunque rapporti quattro volte al giorno sicuramente influisce perché dici che sicuramente influisce cosa ne sai te in realtà hanno fatto dei test degli studi anche in altri sport hanno visto che non ci sono ripercussioni a livello prestazionale aspetta non ripercussioni dipende dalla quantità rispetto dipende dallo sforzo fisico del gesto cioè se c'è un rapporto in cui è faticoso proprio il rapporto di pressione a livello fisico acrobatico che cacchio ne so allora può influire sulle prestazioni ma perché ti stanchi fisicamente non è io non sono d'accordo perché se comunque se fai dell'autosoddisfazione cinque volte al giorno per una settimana la prestazione cala cioè non è la stessa che sono lo sai l'hai provato ma hai detto un mio amico comunque io chiederei qui Giorgione pensate che tutti i commenti che io non sono d'accordo con questi studi li avevo selezionati io questo no no mettiamo anche questo selezionato io non sono d'accordo con questi studi Giorgione secondo me non c'è una prova matematica comunque vabbè i commenti sono finiti Giorgione abbiamo risposto a più domande e anche più del anche più del dovuto mi è chiuso in bellezza dai una risata ogni tanto qui sotto potete ovviamente commentare a quello che abbiamo detto in questa puntata ma soprattutto scriveteci le domande per il prossimo Gizzi Netany Risponde che uscirà il primo lunedì di novembre arrivederci alla prossima puntata ciao